Martedì 27 agosto, buongiorno, bentrovati con la nostra rassegna stampa prima dei quotidiani locali e nazionali. Ascoltiamo le parole di Michele Iorio dopo l'elezione del Presidente della provincia di Isernia. Per Iorio l'elezione di Alfredo Ricci rappresenta un segnale forte, la sconfitta della politica intesa come potere Daniro e Micone, l'ex governatore fa i nomi quindi di coloro che secondo lui stanno determinando squilibri in maggioranza e torna a chiedere a Toma una verifica. Lo ha intervistato Valentina Ciarlante, vediamo. Alla fine di luglio Teleregione anticipò l'intenzione di Michele Iorio di battere i pugni sul tavolo della maggioranza regionale e pretendere una verifica seria. Adesso sembra proprio che il periodo di fuoco si stia avvicinando ad accelerare la richiesta peraltro già più volte avanzata direttamente a Toma dall'ex governatore è stato l'esito delle elezioni provinciali di Isernia. Il candidato cosiddetto ufficiale del centrodestra è stato sconfitto nonostante i favori dei pronostici iniziali e Alfredo Ricci, anche lui esponente di quell'area, ha avuto la meglio. Una sconfitta che però per Michele Iorio non ha il nome di Felice Ianniro, il sindaco di Frosolone secondo lui è stato usato, ma ha la paternità dell'assessore Niro e del presidente del consiglio regionale Micone. Contro di loro in queste ore si è scagliato senza mezzi termini e adesso è davvero vicina alla resa dei conti. Nel rivolgere gli auguri a Ricci, Iorio dice la sua vittoria è il fallimento della politica arrogante e presuntuosa, cioè di chi la intende solo come un contenitore in cui accrescere il proprio potere. Sono molto soddisfatto della vittoria di Ricci perché sentivo che ce la poteva fare ed era anche giusto che lo facesse. Sicuramente è una battuta d'arrestro contro chi con arroganza ha voluto imporre delle scelte, forse anche prevaricando la volontà dei rappresentanti, perché non mi sembra che il sindaco di Frosolone si sia sbracciato molto per avere questo incarico, è stato utilizzato come una pedina per poter imporre la propria volontà da parte di Niro e Micone. Beh, questa è una bella lezione che hanno ricevuto, spero che serva a qualcosa. E adesso per il presidente Toma non può che aprirsi la strada di una riflessione politica che porti anche a dei provvedimenti, chiede ancora Iorio. Io credo che questa maggioranza ha bisogno di essere registrata meglio. Io mi opporrò ad una maggioranza a guida Niro-Micone o di chiunque altro volesse prevaricare. C'è bisogno di rispettare tutte le posizioni e credo che Toma debba fare una riflessione molto, ma molto seria e articolata su come vanno le cose. Ritengo che il risultato di Sernia faccia il pari con quello di Campobasso, nel senso che c'è il rifiuto a una certa struttura della maggioranza e della giunta regionale. Ed ora i quotidiani locali, primo piano, il quotidiano aprono proprio con le provinciali, con gli effetti delle provinciali. Ecco, primo piano, implode il centro-destra, sostenuto dal Presidente del Consiglio e da due assessori regionali. Felice Ianniro perde le elezioni. Alfredo Ricci conquista il vertice di Via Berta. Ianniro furioso con la coordinatrice di Forza Italia. Tartaglione spieghi se la coalizione ha fatto accordi con PD, l'EU e 5 Stelle. Cotugno brutta pagina, Iorio Toma prenda atto, sconfitta la politica arrogante e presuntuosa. L'avete sentito nel servizio. Ripercussioni in Alto Molise. Il sindaco di Agnone si lura la sua vice. Popolari per l'Italia e Orgoglio Molise accusano. Al tavolo era stata avanzata solo la candidatura del primo cittadino di Frosolone, poi è spuntato l'altro nome, potevano dirlo. Poi c'è Romano Mignogna, il punto governo giallorosso, Francesco Totti, premier. Questo è il titolo evidentemente ironico del punto di Mignogna. E poi la svolta, ieri sera il faccia a faccia, decisivo Conte Zingaretti, il colle convoca i partiti. Si è ragionato fino a tarda sera e si tornerà a ragionare anche questa mattina al summit anche di Maio e Orlando. Salvini, ribaltone, pronto da tempo. La vicenda GAM. A settembre l'avvertenza si sposta a Roma. Tavolo al Mise, Santa Croce. Il figlio muore per un cancro, anziano malato giù dal balcone. In taglio centrale scontro sulla strada statale 87 tra auto e furgone, grave un bimbo di otto anni. L'incidente in agro di Vinchiaturo, trasportato d'urgenza al Cardarelli, è stato poi trasferito al Gemelli. Meno preoccupanti le condizioni degli altri feriti. E poi l'evento di successo. Molise Xist, Montaquila per due giorni, capitale delle arti transumanti e della cultura. Campobasso, Gretaferro, protagonista della serie TV Made in Italy. In taglio basso c'è lo sport, lo vediamo assieme. Lupi dal mazzi out per il debutto di Avezzano. L'ex notarisco deve scontare una squalifica. Eccellenza Isernia, mister D'Ambrosio soddisfatto per l'avvio in Coppa. E poi ciclismo trittico del Molise. Aielli riesce a mettere tutti in riga. Il quotidiano del Molise alla provincia. Vince Ricci, acque agitate nel centro-destra. Sale la tensione nella coalizione. Il governatore Toma getta acqua sul fuoco. Non cambierà nulla. Niro, chiarimento tra i partiti. Iorio, riflessione e verifica. Poi c'è il governo vicino al Contebis. Da oggi nuove consultazioni. Ieri sera summit a tre, tra Di Maio, Zingaretti e il Premier. Domani sera il Presidente Mattarella dovrebbe sciogliere le riserve. E poi l'avvertenza GAM sul tavolo del Mise. A settembre, ieri, assemblea pubblica. Boiano, la politica ha risposto in parte all'appello. E poi Gasdotto, Larino Chieti. Parte l'esproprio dei terreni tra le proteste della cittadinanza. Strisce blu, la provocazione di schiavi. Parcheggia senza ticket, ma la multa non arriva. Dentro la notizia, Fiat si torna al lavoro futuro da costruire. Ancora, food and fashion. Venerdì in scena all'Istituto Agrario. Ieri la conferenza stampa e poi a Venafro buona la prima per la Tosca alla palazzina Liberty di Venafro. Sotto la testata altre notizie di cronaca. L'ennesimo incidente mortale sulla Fondovalle suscita rabbia e indignazione. E poi vinchiaturo. Si scontrano auto e furgone. Quattro feriti. Il più grave è un bambino. In taglio basso c'è invece lo sport. Lupi, domenica c'è l'Avezzano. Speciale debutti dal 48 ad oggi. La vittoria manca dal 2015. Vasto Girardi. Farina elogia i suoi. Ma resta sereno. Buon primo tempo. C'è tuttavia da crescere. Calcio a 5. Due colpi di mercato per lo sport in campo basso. Motori, Coccia e Iacampo al Gargano. Ora i quotidiani nazionali. Iniziamo come sempre dal giornale di Milano. Perdenti al governo. Fine delle manfrine. Così il giornale descrive un governo evidentemente per il giornale improbabile. Il PD in Goia Conte. Premier e Di Maio ministro alla faccia della discontinuità. Domani nasce l'esecutivo. Di sinistra, sinistra. In Senato il vertice per le poltrone. Parte il Totonomi. L'editoriale del direttore Sallusti. Per capire questa crisi. Cambiamo gli occhiali. Gli italiani ad ogni elezione spingono per essere governati in ogni sede. Dal centrodestra il Palazzo Scodella. Il governo più a sinistra della storia della Repubblica. succede perché tre perdenti di successo stanno per stringere il patto del diavolo. Sono Luigi Di Maio, prese i 5 stelle al 34% e li ha portati sotto il 15%. Giuseppe Conte, prese il paese che cresceva all'1,6% e lo ha portato a zero. E il duo dei separati in casa, Zingaretti-Rensi, bocciato in tutte le ultime elezioni. Questo l'incipit del pezzo di Sallusti. In taglio centrale il programma di Zingaretti da Apericena a Capalbio. Ed è chic e poca sostanza. Così il giornale bolla Zingaretti. Retroscena poi il nodo viminale Scalpo di Matteo e i punti della trattativa. Strane coincidenze. Aiutino di Bruxelles. Ora sui conti si tratta. Salvini resta isolato e punge. Conte vuole fare il Macron. Si spegne il forno leghista. E ancora scenari politici. Ci sarebbe Cairo all'orizzonte. Il proprietario del Toro non chiede la Gazzetta dello Sport e del Corriere della Sera. Meno tasse sul lavoro. Cairo in pista ma aspetta il prossimo giro. Velocemente gli altri quotidiani. Crisi di un governo mai nato fino all'ultimo rilancio. Così la Repubblica di Maio alza la posta. Oltre alla conferma del Premier vuole il viminale e il commissario dell'Unione Europea. Zingaretti si acconte. No al resto. La trattativa sui ministri continua nella notte a Palazzo Chigi. Salvini un ribaltone preparato da tempo. Subito al voto. Da oggi consultazioni verso incarico a Conte. Ma il Quirinale vuole garanzie. Tormenti Grillini. Via di Battista. Ora la parola va a Russo. Il messaggero quotidiano romano si acconte. Battaglia sui ministri. Da Zingaretti e Di Maio via libera al Premier. Al PD i dicasteri dell'economia e degli esteri. Il leader del Movimento 5 Stelle in difficoltà. Caos sul voto. Sul Russo. Consultazioni al colle. Domani l'incarico. Il toto nomine per gli incarichi di peso. Franceschini vice. Gualtieri alla Unione Europea. E poi al G7. Trump apre il summit con l'Iran. Il sole 24 ore. Il quotidiano politico, economico e finanziario di Confindustria. Eccola qui l'apertura. Intesa Movimento 5 Stelle e PD su Conte. Ora si tratta su nomi e nuovo programma. Chiudiamo con la gazzetta dello sport. Guarda che Inter. Vio sprint. Poker al Lecce. L'inchino di Lukaku. La mano di Conte si vede e come. E i 65 mila di San Siro si esaltano tra nuovi subito efficaci e vecchi rigenerati. In gol Brozovic. Sensi. Lukaku. E Candreva. L'allenatore soddisfatto. Ma non sia una scintilla. Voglio. Dinamite. Queste le parole di Antonio Conte. Mijailovic poi tornerà in panchina. La presenza domenica sera a Verona. Potrebbe accadere già venerdì. Il medico è un paziente. esemplare. Bene. È tutto. Prima dei saluti diamo uno sguardo al palinzesto. Cosa troverete oggi sulla nostra rete? Lo vediamo insieme alle 11. Fuoco incrociato. Poi l'informazione con Marco Vassallo. Salute 4.0. Fuoco incrociato. 17.30 Paese Mio. 19.30 ancora l'informazione Valentina Cirlante. Alle 20. Salute 4.0. 21. Vox Populi 2. 23. L'ultima edizione del nostro notiziario. Tutto ciò in attesa della nuova. programmazione di Teleregione. Bene. È davvero tutto. Grazie per averci scelto. Buona mattinata. Arrivederci. Grazie per aver guardato il nostro notizio. 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 Grazie.